Ciao a tutti gli amici videogiocatori e bentornati ad un nuovo appuntamento dedicato proprio a voi Il Drago d'Oro, un nome, un programma come si suol dire E in questo caso è proprio così perché il Drago d'Oro è il primo premio italiano dedicato interamente all'eccellenza nel mondo del videogioco Che si ispira peraltro ad altri premi internazionali, un'idea voluta e progettata da AESVI, associazione editore sviluppatori videogiochi italiani E sarà presente anche una giuria altamente qualificata cari amici E per voi sarà la grande occasione per essere i protagonisti e portare alla vittoria finale il vostro videogioco preferito Come? Con il vostro voto Andate sul sito premiodragodoro.it oppure sul nostro sito gameclub.mediaworld.it e votate, mi raccomando, non mancate! E tra i premi assegnati dal pubblico in questo appuntamento ci occuperemo di scoprire proprio i migliori videogiochi per PC Sei titoli in gara! Iniziamo da Diablo 3, grande videogioco di ruolo sviluppato da Blizzard Entertainment La storia è ambientata nello stesso universo dei precedenti capitoli e comincia nella cittadina di New Tristram 20 anni dopo l'uccisione del signore della distruzione, Baal, il potente demone, fratello di Mephisto e di Diablo Un gioco che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo Passiamo a Far Cry 3, un FPS di grande qualità sotto tutti i punti di vista Sviluppato da Ubisoft e ambientato in un lussureggiante paradiso tropicale Che nasconde un inferno fatto di follia e allucinazioni Un'avventura mozzafiato A chi ama lo sport e in particolare il calcio, ecco Football Manager 2013 Un gioco ideale per poter dimostrare la propria abilità Gestendo e portando al trionfo la squadra del cuore Grandi le innovazioni dal punto di vista tecnico Non poteva mancare tra i giochi in gara per PC, Guild Wars 2 Un super gioco di ruolo La storia racconta del risveglio degli antichi draghi Per cui il mondo è stato stravolto e si sono persi i contatti con i continenti di Chanta e Delona Ci sono stati notevoli progressi tecnologici Come la scoperta delle armi da fuoco da parte dei Char E l'utilizzo massiccio dei portali Asura Caratterizzato da una splendida realizzazione tecnica Incredibili combattimenti e fantastiche quest multiplayer Spec Ops The Line è molto più di uno sparatutto in terza persona Ambientato in una Dubai ridotta in macerie Il gioco segue le vicende del capitano Martin Walker Profonde le riflessioni sul senso della guerra Con riferimento a Cuore di Tenebra di Conrad e Apocalypse Now Un gioco di spessore e divertente allo stesso tempo Fireaxis ritorna con l'eccezionale seguito del cult game UFO Enemy Unknown Autentico classico datato 1994 Uno strategico a turni, di grande profondità Capace di coniugare vecchio e nuovo Fondendo il tutto con un'esaltante atmosfera di stampo fantascientifico È la riscossa, finalmente anche su console Di un genere e di un certo modo di giocare Per un titolo che non può lasciare indifferenti Amici, siamo giunti alla fine di questo appuntamento Ma voi continuate a seguirci E proseguiamo quindi il viaggio insieme alla scoperta del Drago d'Oro E chissà, magari il vostro videogioco preferito potrà salire sul podio Votate e seguiteci, mi raccomando Ciao! Ciao!